Bari diventa un vero e proprio punto di riferimento per il soccorso non solo marino ma anche aereo e a terra. Inaugurato il Cospas SARSAT, un sistema satellitare internazionale che ha come obiettivo quello di fornire rapidamente dati di localizzazione di mezzi in pericolo alle squadre impegnate nelle operazioni SAR, ricerca e soccorso. Da Bari dipende spesso la salvezza di milioni di cittadini che vivono in questi paesi. Il centro oggi, noi inauguriamo non tanto la sostituzione di un sistema che è di origine in parte americano, statunitense e in parte sovietico, ma inauguriamo, integriamo questo sistema con un sistema europeo. Sistema europeo che ci consente non soltanto un aggiornamento tecnologico su tutte quelle che sono le apparecchiature del centro, quanto una maggiore precisione nell'individuazione, diciamo, nella localizzazione di chi ci chiede il soccorso. Ricordo che parliamo non di soccorso a mare, questo è un centro della Guardia Costiera che tradizionalmente si occupa, come sapete, ormai credo dalle cronache purtroppo quotidiane, del soccorso a mare, ma questo è un centro che si occupa del soccorso anche degli aerei e del soccorso a terra. Un rapido intervento delle squadre SAR aumenta la percentuale di sopravvivenza delle persone coinvolte. Inoltre, la localizzazione di un incidente riduce sia i costi delle operazioni, sia i rischi a cui sono esposte le squadre impiegate per le operazioni di ricerca e soccorso. Per conseguire queste finalità, il sistema utilizza tre componenti, i trasmettitori di emergenza, i satelliti e le stazioni riceventi terrestri. Sono ambasciatore Unicef, dici che cosa ha a che fare l'ambasciatore Unicef con la Guardia Costiera. Ha a che fare, può avere a che fare, sappiamo tutti quello che fa la Guardia Costiera, quanti bambini ha salvato. Io, essendo ambasciatore Unicef, capisco un po' la situazione, perché sono stato in Eritrea, in Angola, alla mia teneretà di 80 già compiuti. Quindi queste cose le faccio volentieri, voglio dire, come pugliese.